ciao raghi oggi video su come non farvi scammare allora se entrate in un server intanto per non farvi scammare allora c'è qualche plispet credo che sia questa questa no allora questa è una che c'è di plispet l'ho letto prima scritto plispet in modo un po strano se ne andata a no ecco se è lei allora per prima cosa se voi gli date un pet e lei mi chiede di più tipo questo pet fa schifo dammi di più è una scammer innanzitutto perché le persone che non hanno pet veramente non stanno il valore dei pet quindi dicono ok grazie mille invece un altro modo per capire se mi stanno scammando o truffando è come sono vestite non è che io mi metto guardate aspettate non è che io se mi metto così sono per forza se io mi metto così no se io mi metto così devo essere per forza una che non è che io mi metto così no se io mi metto così no se io mi metto così no se io mi metto così faccio una cosa facciamo una cosa interazione interazione friend ecco così nessuno me lo può fare stavo dicendo non è che se io mi metto così cioè non è che se io mi metto così sono per forza povera magari se mi metto così magari se mi metto così sono sono povera io veramente o se mi metto così sono povera cioè magari oppure così sono povera capito quindi non importa questo anche se mi metto così non è che sono che sono ricca sono povera se voglio e non è che se io mi metto così devo essere per forza oh please pet per favore please pet guardate la gente ci crede vedete che la gente non è che ci crede perché possono anche vestirsi in un altro modo avete capito quindi niente questa è la verità e ora un altro modo per non farvi truffare o scammare è l'ultimo modo per non farvi truffare o scammare e da come chiedono pet se tipo loro chiedono plispet gentilmente vuol dire che non sono scammare ma se ma se loro ma se loro tipo chiedono plispet così in modo arrabbiato plispet lo chiedono così e tipo mettono la faccina ecco vi faccio un esempio mettono la faccina ecco magari mettono queste faccine e lo inviano vabbè avete capito non sono scammer ora se volete la parte 2 di come non farvi scammare oppure almeno se dovete scammare sapete le regole no scherzo non scammate mai ragazzi fate malissimo a scammare io non ho mai mai mamma mi ha proprio mai scammato le persone vabbè e quelle che lo fanno sono un po' stupidine ora io vado ciao 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 Grazie a tutti.